Il Consiglio regionale ha approvato il DEFRE, Documento di Economia e Finanza Regionale 2021-2023. Il documento si articola in tre sezioni. La prima include il quadro del contesto economico, finanziario e istituzionale di riferimento. La seconda individua gli obiettivi strategici della programmazione regionale in campo economico, sociale e territoriale. La terza contiene l'analisi della situazione finanziaria della regione alla luce del quadro di finanza pubblica e delle manovre di risanamento finanziario. L'assessore regionale al bilancio Andrea Tronzano, presentando il documento, ha ricordato le difficoltà dovute a un'emergenza che richiede più risorse e la necessità di non incorrere in sanzioni. Ha poi sottolineato l'impegno per ridare fiato al tessuto economico piemontese. La regione ha sviluppato un pilastro che è stato quello del sostegno alla liquidità attraverso il bonus Piemonte, 131 milioni di euro. Poi ci siamo mossi sul pilastro degli investimenti. Abbiamo continuato a dare forza al fondo unico da 80 milioni di euro e poi abbiamo messo insieme il sostegno al credito attraverso il pagamento a fondo perduto dei finanziamenti del tasso di interesse sui finanziamenti bancari a cui hanno avuto accesso le imprese. Il capo gruppo della Lega, Alberto Preioni, ha espresso soddisfazione per l'approvazione del documento, invitando però a guardare avanti. È nostra esigenza andare a votare nel più breve tempo possibile l'assestamento di bilancio e per poi procedere con il bilancio triennale. È lì che faremo le vere scelte politiche. L'assestamento sarà un assestamento tecnico perché con la doppia ondata Covid naturalmente la regione Piemonte avrà molte risorse meno. Positivo il commento di Paolo Bongioanni, fratelli d'Italia. È importante il sostegno alla competitività delle imprese anche con strumenti specifici come l'affiancamento degli imprenditori con esperti qualificati per aiutare la ripresa delle aziende. Critiche le opposizioni. Maurizio Marello, Partito Democratico, ha parlato di copia in colla del DEFRE dell'anno scorso senza alcuna indicazione di strategie politiche e di linee programmatorie. Un'opinione condivisa da Ivano Martinetti, Movimento 5 Stelle. Il DEF approvato dal Consiglio regionale è un documento limitato, senza prospettive e senza idee che non disegna il futuro della nostra regione ma si limita alla gestione ordinaria. Abbiamo fatto diverse proposte migliorative ma sono state bocciate. Penso in particolare al nostro emendamento per promuovere la tre medicina e il potenziamento delle case della salute. Ok. Grazie a tutti.